Manifestazione regionale della FIALS, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, che questa mattina si è ritrovata nei pressi dell'assessorato dalla Sanità di Pescara per chiedere di non dimenticare gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19 e lavorare insieme per un vero rilancio del Servizio Nazionale Sanitario attraverso il riconoscimento professionale ed economico di professionisti e dipendenti. Chiediamo un rinnovo contrattuale che oramai da tre anni che è scaduto e dignitoso soprattutto perché gli operatori della sanità sono i più malpagati d'Europa. È una cosa assurda di chiamarci angeli e dopo di che buttarci alla spazzatura. Tutti promettono e nessuno fa niente. Adesso tutt'oggi non abbiamo nessun risultato di concretezza che abbiamo avuto noi operatori della sanità. E per di più, tante delle promesse anche sul Covid-19 e tutti gli operatori della sanità privata non perceperanno, secondo le linee nazionali, nemmeno un centesimo che pure loro sono stati impegnati in prima linea. In tanti sono stati assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid. Che fine faranno proprio questi? Tutti quanti hanno un contratto a tempo determinato di sei mesi o di otto mesi. Questi qua, fine la pandemia, finita l'emergenza, vanno a casa. È una cosa assurda. Io credo che è una cosa che non può esistere. È una cosa che siamo nel 2020, siamo in Europa. Queste cose non possono veramente esistere. Perché nella sanità negli ultimi 10-15 anni c'è stato un taglio e qualcuno se ne è vandato. Di aver tagliato i servizi, di aver tagliato i infermieri, tutti gli medici nella sanità. Se ne è vandato. Quella persona va ancora in giro. Io direi che si dovrebbe solo vergognare. Le rette non sono state adeguate. I lavoratori vengono, soprattutto anche nella ASL, con l'esternalizzazione, vengono pagati con contratti veramente vergognosi. Che qui andiamo dentro la ASL, è una cosa assurda pagare le persone con i contratte della plastica, metalmeccanici, turismo, artigianale. Oramai chi può si inventa di più per non pagare i lavoratori. Ogni volta che c'è un cambio d'appalto è un problema. È un problema perché tutti stanno con la tachicardia per non essere riassunti. È una vergogna. Le devono far finita questo modo di fare.